...accompagna, scarico per lui ora, attacca alla profondità poi Masina, Garitano va via, resista una carica con il destro teso, la parata di Oylberg. Bravo, bravo Garitano nel puntare, lo deve fare l'uno contro l'uno, quella è una zona di campo, Masina dà la palla, punta l'avversario e Holtz lo salta con grande facilità, poi tenta il palo lungo, bravo, Piera non fa su... Anche Masina ha fermato l'intervento di Holtz, di forza, poi attenzione perché può rigare il destro e lo effetto, il tiro però è centrale, e così non poteva fare Garitano, bravo ancora una volta però... Ancora una volta nel credere dove arriva la palla, grande... Per Conti che prende un bene il tempo a Blabier, può attaccare lui, va Conti ancora morbido dentro per Garitano, però non è che sfida, arriva Grassi, ha cercato un pallonetto straordinario, bravissimo il portiere, grande intervento. Sì ma grandissima giocata, ancora di Conti, come l'azione del gol in Inghilterra, ruba l'anticipo all'avversario, mette questa palla, gran finta di Garitano perché voleva farla visto Grassi che è arrivato, è da campo. Eccolo qua. Proprio sul fischio dell'arbitro, grande rientro... Sul fischio dell'arbitro...